In Italia nel mondo si allarga la forbice tra i ricchi e i poveri, con i primi, i ricchi che detengono una quota sempre maggiore di ricchezza nonostante che siano una parte infinitesimale della società, e la parte più povera che cresce fino ad arrivare in Italia al 5,6% della popolazione complessiva, la quale detiene solamente una piccola percentuale della ricchezza complessiva nazionale, e da questo punto di vista si allargano il fronte delle richieste di arrivare a una riqualificazione del peso fiscale spostandolo dai redditi ai patrimoni in modo da fotografare meglio tutto quell'insieme di ricchezza costituito dai mobili, società, quote azionari, assicurazioni, interessi e quant'altro che al giorno d'oggi, spesso volentieri, finiscono con sfuggire al fisco. Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e condividere i contenuti con i vostri amici. A dopo la sigla! Cari amici vicino e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Velina. In Italia e nel mondo si allarga il divario tra i ricchi e i poveri e da questo punto di vista viene bene il rapporto Oxfam appena diffuso nel forum di Davos, secondo cui nel 2022 il rapporto tra ricchi e poveri si è ancora di più allargato rispetto agli anni precedenti, perché il 20% della popolazione più povera in assoluto ha dimezzato la propria ricchezza arrivando a un totale dello 0,7% complessivo a fronte di una sostanziale stabilità della quota del 10% più ricco degli italiani. E se si va a vedere quello che è la capacità di reddito della fascia diciamo più ricca, si vede che il primo decimale di più ricco ha un valore 6,7 volte superiore rispetto alla metà della popolazione più povera, il che allarga sempre di più la forbice tra ricchi e poveri. Ancora più marcata la piramide della distribuzione della ricchezza nazionale, perché i patrimoni dell'1% più ricco, titolare a fine del 2022 del 23% della ricchezza nazionale, erano oltre 84 volte superiori alla ricchezza del 20% più povero della popolazione italiana, mentre il numero di miliardari italiani è aumentato di 27 unità passando da 36 a 63 con un valore di patrimoni di 217,16 miliardi di dollari a fine novembre 2023, cresciuto addirittura di 68 miliardi come valore complessivo, più un 46%. Ma i ricchi non sono solamente i miliardari, ci sono anche i milionari, perché coloro che hanno un patrimonio superiore ai 5 milioni sono cresciuti di 11.839 paperoni. E in Italia ben 5,6 milioni di persone sono in condizioni di povertà assoluta, con un'incidenza della povertà a livello familiare che è passata dal 7,7 all'8,3%, mentre quella individuale è cresciuta dal 9,1 al 9,7%. Sono valori che determinano un fortissimo problema sociale, con una problematica che allarga anche diverse fasce di società, perché se una volta prima era solamente il povero, il pensionato, il disoccupato, colui che stava in margine di una società, al giorno d'oggi la povertà attanaglia anche tantissimi lavoratori autonomi, soprattutto nel campo del commercio, dell'artigianato dicendo, che vengono sempre più strozzati da un minore carico di lavoro, spese sempre più alte e soprattutto un'incidenza della fiscalità per chi è in regola col fisco decisamente superiore. Ecco, da questo punto di vista, e lo stesso rapporto Oxfam lo fotografa, sarebbe opportuno rivedere il rapporto col fisco dei cittadini e dei contribuenti, anche perché al giorno d'oggi il fisco attuale è eccessivamente spostato sul fattore di redditi, mentre lascia praticamente indenne o tocca solamente marginalmente tutte le ricchezze che vengono tassate con regimi particolari, le cedolari secche, le ritenute alla fonte e quant'altro. E da questo punto di vista, i quellori che sono i titolari dei grandi patrimoni che vengono spesso volentieri basati su ricchezze finanziarie, immobiliari, azioni e quant'altro, fuoriescono dal regime della tassazione sui redditi e con questo finiscono col pagare una tassazione decisamente inferiore rispetto a quella che grava su un lavoratore dipendente, soprattutto su quei lavoratori dipendenti che purtroppo per loro, oltre alla quota di 50.000 euro, finiscono per pagare una tassazione marginale del 43%, qui dopo di che si aggiungono tutti gli altri balzelli che gravano sulla vita di ciascuno. Da questo punto di vista nasce la proposta dell'Oxfom e di tante altre realtà di cercare di riequilibrare il peso fiscale andando a colpire con quella parola che secondo molti è una bestemmia, la patrimoniale, che in Italia esiste già di fatto sotto forma di ICI e di IMU che grava sul patrimonio immobiliare extra prima casa che è tenuta esente, che però alla fine è solamente una piccola parte di quello che è effettivamente un patrimonio e qua bisognerebbe incominciare forse andare a toccare quelli che sono anche ingenti patrimoni finanziari perché tanti miliardari e milionari hanno patrimoni che si basano su titoli azionari, obbligazioni, quote di assicurazioni e quant'altro. Ecco, forse mettere una piccola tassazione periodica, annuale, che fotografi l'intero gettito, l'intero patrimonio posseduto con una destinazione di scopo destinata a ridurre esclusivamente il debito pubblico e non alimentare la spesa corrente come forse qualcuno avrebbe già in animo di fare per ringraziarsi frotte di elettori, forse potrebbe essere la strada giusta, anche perché con 2860 miliardi di debito pubblico che costano 100 miliardi all'anno di soli interessi, con i tassi che sono destinati a rimanere alti ancora per lungo tempo, almeno per tutto il 2024, un paese come l'Italia non va molto lontano e se non si aggredisce in maniera concreta e soprattutto decisa almeno un 25-30% di questo debito pubblico non si va molto lontano e da questo punto di vista bisogna che il viceministro al riforma fiscale Leo, il ministro della finanza Giorgetti prendano in serie a considerazione quello studio che era stato fatto ancora tempo addietro, di mettere in un fondo tutti i beni immobiliari, le quote azionarie possedute direttamente dallo Stato e valorizzarle dal punto di vista finanziario, cedendole sul mercato una quota del 30-40% in modo tale da incamerare risorse anche qua con una destinazione obbligata a volte a ridurre il peso del debito pubblico, potrebbe venirne fuori secondo gli studi più autorevoli, un patrimonio di 2-300 miliardi da poter abbattere immediatamente il debito pubblico. Certo, un 10-15% sull'attuale massa di denaro è in percentuale poca cosa, però consenterebbe di dare una certa forma di respiro per poter pagare meno interessi e soprattutto per poter destinare queste risorse liberate dalla parte per abbassare le tasse su chi le paga sui propri redditi, ma soprattutto per poter avere una maggiore capacità di spesa nei settori dove serve aumentarla, pensiamo semplicemente al discorso della spesa sanitaria o delle spese per evidenziali che nei prossimi anni è destinata ad aumentare il numero simile. Sono procedimenti estremamente complessi, sono estremamente delicati da attuare, però bisogna averci una strategia di medio-lungo periodo che non si può sicuramente trascurare, ragionare oggi per assicurare un futuro un po' migliore di quello attuale. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata allo schiacciassare si termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. Da parte di Stefano Veileni intanto un saluto e arrivederci a questa puntata sempre che lo vogliate. Ciao! Grazie! 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 Grazie!